I 50 anni di una storia meravigliosa come intitola il nostro appuntamento di oggi perché è profondamente radicato nell'oggi, nel qui e ora, nei tempi così difficili e anche complessi che stiamo passando è qualcosa che riguarda la cultura, la formazione, il nostro atteggiamento rispetto alla donazione degli organi ma va anche molto oltre, quindi voglio rivolgere un augurio a tutti coloro i quali a vari livelli hanno operato e operano.